C'è una nuova immagine che testimonia come anche due operai, che transitavano in zona. Siano immediatamente scesi dal ponte romano e si siano prodigati per cercare di portare in salvo i tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone. La fotografia immortale ha i soccorritori occasionali nel bosco accanto al torrente. Secondo quanto si è appreso, i due operai sono riusciti a parlare con i tre ragazzi, cercando di rassicurarli sull'arrivo dei soccorsi. In un primo momento, anche per valutare la praticabilità del percorso, Christian ha anche provato a raggiungerli, ma ha desistito per la velocità della corrente, tornando da Patrizia e Bianca. I due operai sono già stati sentiti dai carabinieri della locale stazione e le loro testimonianze sono a disposizione della Procura della Repubblica. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eder Metallica!